Ciao a tutti, eccoci con una brevissima guida su come battere l'impiccato. Ah, una meccanica piuttosto semplice ma che può risultare complicata se fatta con i random. Praticamente consiste nel tenere d'occhio il liquido che riempie i tubi sotto al boss. Una volta che si riempie dovrete togliere il cubo e correre via. Mi raccomando, tenetelo con voi in modo tale che concentrerà i suoi attacchi fulminei solo su chi trasporterà il cubo. Questo farà sì che i vostri compagni potranno mettersi d'accordo, andare dallo stesso lato e sparargli la bocca. Una volta che gli sparano la bocca una o due volte, il livello del liquido scenderà a zero. Mettete il cubo e spappolate il boss di nuovo. Qui ritornerà normale e incomincerà a riprendere danno. Fatemi sapere se vi interessa qualche altro contenuto su questo gioco e io vi saluto al prossimo video. Un bacione. Grazie mille. Grazie a tutti.